Sono molto eccitato e sono molto felice di essere qui. Sono pronto per giocare, ho dormito bene in aero, 12 ore, your flight? Sono molto contento di poter giocare con i miei nuovi compagni, non vedo l'ora. Sì, ho capito la mia situazione e credo che tutti hanno aspettato molto di me. Ma credo che posso fare molto, posso cambiare qualcosa e posso dare al team qualcosa di speciale. Ho una confidenza. Io penso che posso dare molto e posso dare qualcosa di più alla squadra. Sì, ho sempre guardato il gioco sulla tv quando ero bambino. Quindi ho detto che sono molto felice di venire qui. Questo è il mio sogno che diventa realtà perché il Milan è una leggenda e io lo seguivo fin da quando ero bambino. No, non ho parlato con lui in Italia. E, sì. Sì, ho parlato con i miei amici di Nagatomo. Mi ha detto qualcosa di ciò che mi ha detto, mi ha detto un'advise di Italia. E tutto ciò che sono positivi. Quindi, mi sento bene. Non lo so, non lo so. Fittuolo è la mia vita. Per prima cosa devo giocare bene. E' tutto. Sì, voglio scorrere, voglio assistire. Quindi, attacca... Attacca il gioco. Io sono attacca il gioco. Quindi, sì. Non mi importa in quale posizione, ma voglio giocare... Voglio giocare in attacco, voglio segnare tanti gol. Sono felice di sentire questo. Sì. Ma devo giocare bene. Perché tutti hanno aspettato molto. Sì. Grazie. Grazie.